Roberta Lombardi è candidata alla presidenza della Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle. Le domando subito a chi sostiene che il Movimento abbia fallito il governo dei territori da Torino a Roma. Lei che cosa risponde? Parafrasando qualcuno più famoso di me, diceva che non sarò un'altezza ma non vedo giganti intorno a me. Non mi pare che quelli competenti esperti della politica abbiano saputo amministrare i nostri territori. Noi siamo entrati in comuni che erano in dissesto o predissesto e piano piano stiamo normalizzando la situazione dei conti. Lei ha individuato 5 punti prioritari del suo programma per la Regione. Cerchiamo di analizzarli tutti. Partendo dalla sanità, qual è il vostro progetto? Di ricostruire su questo territorio una sanità accessibile e di prossimità. Partendo da quello che è l'abbattimento delle liste d'attesa, quindi i tempi biblici che un cittadino laziale deve affrontare per riuscire ad avere una visita specialistica, una prestazione diagnostica e regime di sanità pubblica. Andiamo al reddito di cittadinanza che è una parola chiave del vostro programma anche a livello nazionale. Lo avete pensato anche sul piano regionale. Ci vuole spiegare esattamente come funziona? Nella Regione Lazio noi vorremmo affiancare il reddito di cittadinanza nazionale con la parte relativa alla formazione, quindi tutta l'attività legata anche all'utilizzo dei fondi europei per la formazione in modo che le persone espulse provvisoriamente dal mercato del lavoro possano essere riqualificate per rientrarvi. E anche tutta la parte relativa al pacchetto welfare, quindi l'assistenza socio-sanitaria che poi va anche qui a essere una peculiarità della Regione che deve essere costruita sui bisogni dei cittadini. Lei ha fatto un cavallo di battaglia anche delle politiche per la famiglia. Lei è una mamma, due bambini. Le donne che possono rientrare al lavoro nel suo progetto, nel vostro progetto avrebbero un aiuto in più? Sì, le mamme lavoratrici avrebbero un sostegno in sinergia con il nazionale di un assegno di 150 euro al mese per i primi tre anni di vita del bambino. E le aziende che volessero assumere mamme lavoratrici avrebbero degli sgravi fiscali consistenti. Oltre questo ci siamo preoccupati comunque di tutte le famiglie, soprattutto le famiglie monoreddito con figli a carico, introducendo un quoziente familiare, cioè un abbastamento, uno sgravio fiscale per famiglie monoreddito con figli a carico relativamente all'addizionale regionale. Nel programma c'è anche la voce ambiente, un tema molto sentito dai cittadini. Voi parlate di reddito energetico. Che cos'è? Si istituisce un fondo finanziato con risorse pubbliche per andare a installare pannelli fotovoltaici sui tetti delle abitazioni private o delle imprese che aderiscano a questo progetto. I cittadini o le imprese avranno dei benefici economici consistenti, perché per le famiglie parliamo di 200 euro di risparmio in bolletta e ovviamente di più per le imprese se hanno disponibilità di ospeditario, è un'attrezzatura che produca più kilowatt e questi risparmi per le famiglie e quello che loro non vanno a consumare come energia viene reimmessa nel sistema di distribuzione energetico nazionale. Il 5 marzo lei viene eletta Presidente della Regione, la prima cosa che fa? Taglio i vitalizi, taglio lo stipendio e taglio le spese inutili. Abbiamo stimato un risparmio in 5 anni di circa 200 milioni di euro, questo significa prendere questi soldi e andarli a ridistribuire sul territorio attraverso per esempio l'acquisto dei macchinari per la PET che è una prestazione diagnostica che serve per i malati oncologici. Consideri che nel Lazio ogni anno tra i 10-15 mila malati oncologici sono costretti ad andare fuori regione a effettuare questa prestazione diagnostica perché i tempi di attesa sono superiori a un anno. Un macchinario del genere più il personale ha un costo di 2 milioni e mezzo di euro, pensi con 200 milioni di tagli di sprechi della politica quante PET potremmo andare a comprare e quante persone potremmo finalmente assumere per il comparto della sanità, visto che il blocco del turnover ha portato un impoverimento enorme delle risorse umane, un loro invecchiamento e anche a condizioni di lavoro sempre più difficili e pesanti.